Buonasera a tutti, grazie. La terza agora di oggi c'è qualcuno che se ne è fatte tante. Giorgio c'è? Giorgio c'è? C'era un ragazzo che dice che voleva dire qualcosa da un po' di tempo e passateli il microfono. È un ragazzo che non è del Movimento 5 Stelle, magari deve fare delle critiche, ha tutto il diritto di farle, vi prego di rispettarlo. Ok? Al massimo. Buonasera a tutti. Io sono un iscritto a Sinistra Ecologia e Libertà, quindi premetto questa cosa. Io penso che la presenza del Movimento 5 Stelle in Parlamento sia assolutamente necessaria. Su questo sono assolutamente d'accordo e mi distacco da molti compagni di partito. Una critica che posso rivolgere al Movimento 5 Stelle è quando nel nostro statuto si afferma che è un movimento senza ideologie. Ecco, io questo non lo condivido per un semplice fatto, perché penso che le forze politiche che voi giustamente combattete sono le prime ad aver rinnegato quelle ideologie, sono le prime ad essersene distaccate in nome del profitto e della corruzione. E quindi io penso che definirsi un Movimento senza ideologie sia un modo per essere trasversali e accaparrare un po' più di voti. Questo è il mio modesto parere. Io penso, mi sono letto il programma del Movimento 5 Stelle rispetto alle elezioni europee e fondamentalmente lo condivido, cioè l'abolizione del fiscal compact, l'abolizione del MES, la revisione dei vincoli e dei trattati, sono tutte cose estremamente legittime e che una forza come il PD non si sogna nemmeno. Però ritengo che ci sia una nefandezza, una cosa che non mi è piaciuta del Movimento rispetto a questa campagna elettorale e in particolare, secondo me, non aver creato una rete europea all'altezza, nel senso, io mi auguro e credo che voi arriviate al 30%, onestamente, però pensare che quel 30% vale 20 seggi e poi vi ritrovate a scontrarvi in un Parlamento di 751 parlamentari vi può mettere in difficoltà e rendervi meno incisivi di quello che poi potete essere realmente. Quindi questa è una cosa che ci temo a precisare. Poi un'altra cosa che volevo dire, per distinguervi dall'Ebetino che dice tutti i giorni eliminiamo i sindacati, ecco io questa è una cosa che non accetto, i sindacati non vanno assolutamente eliminati, è vero che sono dei colossi burocratici che non rappresentano in nessun modo i diritti dei lavoratori, però allo stesso tempo dobbiamo guardare alla storia e in passato c'era gente come Di Vittorio che ha combattuto, ha fondato il sindacato e ha consentito la nascita dello statuto dei lavoratori, che è tutti i giorni quotidianamente sotto attacco da parte delle forze politiche, in particolare il PD e il PDL, questa è una cosa che volevo dire. Poi per chiudere la cosa che ci tenevo a dire è che io ritengo che queste agora siano un esempio di democrazia e che i partiti troppo spesso si stanno distaccando, io lo vivo direttamente ed è vergognoso l'autoreferenzialismo che li caratterizza e quindi questi sono un grande esempio di democrazia e sono molto contento di essere venuto qui a partecipare da solo, non è venuto nessuno, non mi ha seguito nessuno. E quindi niente. Ultimissima cosa e poi mi taccio, oggi ho notato un editoriale di Eugenio Scalfari che affermava praticamente che bisogna votare responsabilmente Renzi e il PD, questo era un discorso, un mix di mistificazione e demagogia, ecco io trovo sia inaccettabile che un quotidiano di regime come la Repubblica goda tuttora dei finanziamenti pubblici, questo va cambiato, vi lascio. Grazie. No, a me, ah c'è Giorgio, io voglio solo, come ti chiami? Mattia, io, no sì sì ora, Mattia non voglio fare il populista, però a me tu mi sembri che sei del 5 Stelle ma ancora non lo sai. Io capisco il suo discorso sull'ideologia, io sono nato comunque in un momento diciamo di passaggio tra una società, secondo me poi ideologica e post-ideologica. Ci sono delle cose interessanti nei programmi di Sella anche, ma ti arrivo a dire pure che ci sono delle cose interessanti nel programma dei fratelli d'Italia o della Lega, noi alle volte votiamo dei provvedimenti assieme alla Lega e non c'entriamo nulla con la Lega. Il discorso è, nel momento in cui siamo entrati in Parlamento e li vedi in faccia i rappresentanti di quei partiti che purtroppo fanno da intermediari, tu dicevi, cerco di farmi capire un istante, lui diceva giustamente i sindacati non bisogna azzerarli perché i grandi sindacalisti, è vero, però oggi c'è pure la Camusso, oggi c'è questa gente, oggi con la rete, la battaglia che stiamo facendo è possibile tagliare l'intermediazione tra lavoratori e padroni in questo senso, tra organizzazioni dei sindacati e i datori di lavoro, così come oggi è possibile, questa piazza lo dimostra, rompere l'intermediazione tra istituzioni e cittadini. L'intermediazione tra istituzioni e cittadini è sempre stata rappresentata dai partiti, da una struttura partitica, organizzativa, attenzione noi del 5 Stelle siamo organizzati, siamo organizzati in meetup eccetera eccetera, però non c'è questa intermediazione. Io reputo che intermediare sia sempre un modo di esercizio del potere e questo hanno fatto i sindacati in un certo senso. La nostra proposta di società futura è che i lavoratori stiano direttamente all'interno delle aziende, cioè che parte della proprietà dell'azienda, oltre chiaramente a chi ci mette i capitali, quindi che rischia un datore di lavoro, però debba anche essere, deve appartenere ai singoli lavoratori, che non ci debba essere più quell'intermediazione dei sindacati, che oggettivamente, tu hai tirato fuori dei grandi nomi, ma pure Berlinguer era un grande, eppure oggi il Partito Democratico non c'è tra nulla, più nulla con Berlinguer. Sì, 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 io in Parlamento ci sto poi con le persone di Sela, alcune saranno anche delle brave persone, però vedo quello che fanno, come si comportano, si comportano da stampella del PD, cioè tu forse pensi che siano l'opposizione, non è vero, oggi Sela sta al governo, solo che non ha i posti nelle sottosegreterie, cioè si comportano esattamente come il PD, o meglio fanno battaglie giuste, ci troviamo anche d'accordo sugli F-35, sul ritiro dall'Afghanistan, poi però quando gli serve una mano al governo regolare, noi li prendiamo in giro e diciamo che sono la stampella del PD, accorrono sempre. Non è un caso che l'altro ieri, che è mancato per tre volte il numero legale in aula, e noi per battuta diciamo che il PD in aula di legale non ha più nemmeno il numero, Rosato, il capogruppo del PD, insieme alla Boschi, che sono entrati di fretta e furia, poi Roberta stava lì, twittava, fotografava, hanno alzato il telefono e o hanno chiamato Beirut per cercare di far tornare gli amici loro, oppure in realtà hanno chiamato quelli di Sela, dicendo correte, 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 veniteci a dare una mano perché stiamo sotto con i numeri. Io questo noto, poi tu avrai le tue idee e le rispetto. Secondo noi oggi la battaglia che si deve effettuare, battaglie democratiche, è tra delinquenti e cittadini onesti. I cittadini onesti stanno dappertutto, attenzione, in tutti i partiti. Il problema è che i capi bastone dei partiti, per reiterare il loro potere, per mantenere il loro sedere sugli scranni, sono ormai, come dire, hanno fatto determinate compromessi con il malaffare, con le imprese. Io penso pure con l'ILVA, forse l'ha fatti anche SEL, comunque ci sono state delle intercettazioni secondo me pesanti da una persona che crede nell'ecologia, che crede nel primato della politica sull'economia. A me queste cose mi fanno riflettere, capisci? Poi lui dice, c'è ancora l'ideologia. D'accordo, io la rispetto la sua idea. Mi chiedo se rispettare il referendum del finanziamento pubblico ai partiti, il 90% dell'italiano ha votato contro il finanziamento pubblico ai partiti, sia un'idea di destra o di sinistra rispettarlo. È un'idea logica, costituzionale, eppure se lì in Parlamento prendono il microfono e dicono che ci deve essere il finanziamento pubblico ai partiti, altrimenti i partiti sarebbero in mano esclusivamente di pezzi grossi dell'industria e di gente che ha i soldi. La dimostrazione del 5 Stelle qui, che ognuno organizza questi eventi cacciando un euro, due euro, cinque euro, è che noi abbiamo tanti padroni, non uno che ti finanzia la campagna elettorale come Riva dell'Ilva che dà i soldi a Bersani e contemporaneamente a Berlusconi, abbiamo migliaia di cittadini che cacciano ognuno un euro, due euro, venti euro, cinquanta euro, massimo cento euro, e questo ti dà quella libertà in Parlamento che è necessaria per cambiare l'Italia, noi diciamo siamo gli unici che possiamo cambiare l'Italia oggi, perché? Perché siamo ontologicamente migliori degli altri? No, ci saranno in futuro pure casi di corruzione del 5 Stelle, più entreremo nelle istituzioni, vedrete che qualcuno sbaglierà, qualcuno farà il furbo, qualcuno del 5 Stelle ruberà, succederà sicuramente, solo che noi li cacciamo via immediatamente. E la logica è che però se tu vivi con microfinanziamenti, se tu vi collarete a contatto diretto con i cittadini, fai queste iniziative e le agorà, le possibilità di sbagliare, di corromperti, di contaminarti, si riducono. E questo è un po' il concetto del Movimento 5 Stelle. E oggi il malaffare è così diffuso che secondo noi la battaglia si deve combattere in maniera drastica e intransigente per eliminare il malaffare. Poi dopo che avremo eliminato il malaffare ci saranno delle divergenze politiche con dei partiti onesti all'interno del Parlamento. Se ne discuterà, si potranno aprire tutti i tavoli di trattative del mondo. Non è che noi siamo contro il dialogo. Io ho parlato migliaia di volte ai deputati del PD, di SEL, provando a convincerli per esempio a votare Rodotà. Quelli di SEL l'hanno votato. I PD ci dicevano non possiamo votarlo perché l'avete presentato voi. E allora che dialogo ci può essere in questo caso? Ci abbiamo impiegato mesi a sgolarci, a dialogare chiaramente sui punti, non formando un governo. Perché se tu inizi volendo cancellare il malaffare da quest'Italia, e c'è, l'esempio dell'Expo è evidente, entri dicendo il tutti a casa che può essere forte, qualcuno è popolista, quello che volete, però entri con questa idea e dopo una settimana che stai in Parlamento immediatamente cedi al compromesso, cioè per ottenere qualcosa io ti do questo. Diventi in un giorno come gli altri. La Lega, e concludo e passo il microfono ai miei colleghi favolosi, la Lega, uno gli può piacere o non piacere, a me non è mai piaciuta la Lega, sono di Roma, ma va riconosciuto il fatto che quando entrò anni fa era un movimento comunque rivoluzionario, antipartitico, antisistema e contro Roma ladrona, d'accordo? Può piacere o non piacere? Avevano questa idea. Poi dopo qualche mese Bossi ha pensato bene di allearsi con Berlusconi, con un delinquente conclamato per ottenere qualcosa, il federalismo fiscale, cioè che non ha mai ottenuto. Ci si avvicina, si provano dei compromessi con questi colossi che poi ti spolpano e la fine della Lega qual è? Quella di un partito che ha rendicontato Diamanti e Lingotti d'Ori in Tanzania, si è comprato alla Laura del figlio di Bossi in Albania e praticamente è diventato davvero parte del sistema. Oggi si vogliono intestare la battaglia sull'immigrazione, sull'euro, ma c'erano loro in Parlamento e sono stati zitti quando l'Italia è entrata nell'euro senza che il popolo italiano venisse minimamente consultato. È questo il discorso. Oggi c'è un... Se noi non ci fossimo comportati in quel modo, in quei giorni, e fatemelo dire, avevamo tante difficoltà in quel periodo, avevamo paura a parlare con i giornalisti e chi ci ha messo la faccia in quei due mesi tragici, difficilissimi in cui dovevamo imparare tutto, è stata Roberta Lombardi, che ci ha messo la faccia per prima, commettendo qualche errore che avrebbe commesso chiunque, ma tirando fuori il coraggio in quel momento di tirare un gruppo, cioè di metterci sempre la faccia e di subire delle critiche, degli attacchi da chi? Dai PDini che volevano che dessimo un appoggio al PD. Ma se noi non ci fossimo comportati in quel momento, alla luce di quello che abbiamo visto che è diventato il Partito Democratico, io faccio sempre questa battuta, ma è vero, i primi settimane andavo dai tizi del PD e gli diciamo, ma come fate a governare con Forza Italia? Ora dopo che ho visto che cos'è il PD, mi viene ad andare da quelli di Forza Italia e dire, ma come fate a governare con il PD? Se non ci fossimo comportati in questo modo, oggi al Parco Schuster, stasera, domenica sera, prima stavamo a Ciampino, prima ancora a Tivoli, le piazze non sarebbero mai state piene, mai. Avremmo perso tutta quella credibilità che ci siamo guadagnati, qualcuno può essere d'accordo o meno col 5 Stelle ed è legittimo, ma è oggettivo che noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo detto che avremmo fatto, questo è oggettivo. Abbiamo rinunciato ai soldi, le sappiamo le cose, non c'è una cosa che avevamo detto nella campagna elettorale a febbraio, sbandierandola, anche con toni forti, perché purtroppo in un paese addormentato alzare la voce spesso è anche necessario, altrimenti molte persone non ti ascoltano. Noi abbiamo rispettato qualsiasi patto, io mi ricordo che parlai a San Giovanni e dissi se porteranno delle porcate assolute ci incateneremo in Parlamento, ci siamo incatenati in Parlamento, abbiamo occupato le commissioni, abbiamo lottato contro i furti del decretimo Banca d'Italia e guardate, vi do questo retroscena e proprio concludo. Qualche giorno fa si è votato per l'arresto di Frank Antonio Genovese, un deputato renziano del PD. Vi dico che è la prima volta nella storia della Repubblica che il Parlamento si è espresso, anche Sel, tra l'altro che Sel diceva che voleva subito votare, per l'arresto di un parlamentare accusato da magistrati di reati contro la pubblica amministrazione, non era mai successo nella storia della Repubblica. In realtà il PD, con l'aiuto di qualche infiltrato nei vari partiti, voleva posticipare la votazione a dopo le europee, perché aveva paura di questa votazione, perché se si votava a favore dell'arresto il PD nel messinese perdeva 20.000 voti che questo genovese portava, perché spesso candidano i capi bastone anche se sono sotto inchiesta, perché? Perché gli garantiscono dei voti nel territorio. Se avesse votato contro l'avremmo uccisi, dicendo questi votano contro l'arresto chiesto dalla magistratura di un deputato che ha 53 capi di accusa. Quindi l'idea del PD era quella, posticipiamo. Noi l'abbiamo capito, abbiamo lottato in aula, hanno fatto degli interventi eccezionali i miei colleghi. Poi è stata indetta una capigruppo dalla Boldrini, c'è una riunione con tutti i presidenti del gruppo. Si sono messi lì nella sala e prima che entrassero nella sala, dove c'è questo tavolo lungo che Roberta conosce bene perché è stata capogruppo, io lo conosco insieme a Giorgio perché ci ha convocato la Boldrini quando ci deve cacciare, ci convoca su quel tavolo. Noi ci siamo, ci ha mandato un messaggino Giuseppe Brescia, in 60 deputati ci siamo messi tutti fuori dalla porta di ingresso, così, come i bravi di Manzoni. Non volevamo fare nulla di violento ma abbiamo voluto marcare la presenza. Come dire, noi ci stiamo. È entrato Dell'Ai, è entrato Romano, è entrato Speranza, è entrato Giuseppe Brescia e il 5 Stelle, è entrato Brunetta, sono entrati tutti. Passavano e noi così, li guardavamo. Vedete che dovete fare, vedete che dovete fare, vedete che dovete fare. La pressione che gli abbiamo messo, pensate l'importanza dell'opposizione, una pressione che abbiamo consentito, che possiamo esercitare oggi perché? Perché quando c'è stata quella porcata del decreto Imo Banca d'Italia non siamo stati fermi, ci siamo, siamo scesi tutti quanti, l'avete visto, anche in maniera determinata, forse per qualcuno troppo, legittimo, ognuno avrà i suoi pensieri. Siamo scesi tutti quanti per provare a bloccare una votazione che era incostituzionale in quanto si stava utilizzando uno strumento, la ghigliottina, non previsto da regolamento. Gli abbiamo dato una dimostrazione di forza, anche se quella battaglia l'abbiamo persa, perché i miliardi nostri e le banche private gliel'hanno dati, di forza, di determinazione, che ormai è un ricordo indelebile per loro. Loro sanno che se passano delle porcate incostituzionali, non le leggi che purtroppo passano, ma delle schifezze, cioè violano il regolamento, per esempio, sull'arresto di Genovese che doveva da regolamento essere votato entro il 18 maggio, perché la giunta per le autorizzazioni si era espressa, noi siamo disposti a tutto in Parlamento. Quel ricordo, quella nostra presenza fuori dalla sala, dalla stanza lussuosa della Capigruppo, li ha costretti a calarsi le braghe e a dire non possiamo fare nulla, i grillini se non votiamo l'arresto mettono a ferro a fuoco il Parlamento, votiamo per l'arresto. Ed è la prima volta che un parlamentare della Repubblica accusato di reati contro la pubblica amministrazione va in galera. Non era mai successo. Questa, al di là delle idee di ognuno che avrà, è l'importanza dell'opposizione, quella che non c'è mancata in tutti questi anni. Solo che opporci non ci basta, noi ci sentiamo pronti a governare, presenteremo alle prossime politiche una squadra di rigoverno con Tizio, Caio e Sempronio già definiti nei ruoli e siamo convinti che una vittoria alle europee costringerà il sistema a rendersi conto che non ha più legittimità politica agli occhi del Paese, quindi a eleggere un nuovo Presidente della Repubblica, perché questo è andato politicamente, indire nuove elezioni politiche e si andrebbe a votare con il consultellum, cioè la legge uscita fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale, una sorta di proporzionale e lì ci conteremo, vedremo chi vincerà. Se dovesse prendere un punto più il Movimento 5 Stelle delle coalizioni in quel caso le coalizioni avrebbero meno potenza dell'Italico, andremo al governo. E un movimento nato quattro anni fa, senza soldi, disconosciuti, grazie a Beppe Grillo che si faceva il mazzo, ma oggi che cammina oggettivamente con le proprie gambe, guardate quanti siamo oggi, Beppe Grillo non c'è e questo è un successo del Movimento 5 Stelle, perché noi dobbiamo iniziare a entrare nell'ottica che si deve fare a meno di Beppe Grillo, nonostante ancora ci serve un grande, ma questo è il Movimento, il Movimento deve andare avanti con le proprie gambe. Reputiamo che potremo andare al governo da soli, magari condividendo dei progetti assieme a chiunque li voglia fare e cambiare definitivamente questo Paese che non lo cambi, ormai l'abbiamo visto, con il compromesso. Il compromesso ti uccide, il buonismo ti uccide. Lo devi cambiare con l'intransigenza perché non sono tutti mafiosi, ma la mafia in Parlamento c'è e fino a che non la sbatti fuori con la pala tu non puoi ricostruire un Paese in macerie. Questa è la logica. Grazie a tutti. Roberta, prima Giorgio, Giorgio Sorial, è un piacere per me presentarlo, è un ragazzo di Brescia, lui è vicepresidente della Commissione Bilancio, la Commissione Bilancio è una delle commissioni insieme all'affari costituzionale che lavora di più in Parlamento, oggettivamente quella che lavora di meno la Commissione Affari Esteri, questo è vero, questo è vero, per quello mi mandano in televisione, dice Roberta, ci vado pure poco. Giorgio Sorial, vicepresidente, insieme ai colleghi studia qualsiasi rigo di tutte le leggi che passano alla Camera, perché tutte le leggi che passano alla Camera passano nella Commissione Bilancio e lo scandalo dei lobbisti, cosa che io non immaginavo, chi l'ha scoperto? La Commissione Bilancio, un nostro collega Vincenzo Casa è lui che ha registrato un lobbista che parlava subito dopo aver convinto Speranza, il capogruppo del PD, a cambiare un emendamento che era buono all'inizio, noi lo sostenevamo quell'emendamento, poi è intervenuto il lobbista e l'ha cambiato Speranza, perché? Perché così funziona la Repubblica, i partiti, anzi la partitocrazia, ricevono degli aiuti da degli imprenditori, dei quattrini e poi gli restituiscono il favore. Se non ci fosse questa Commissione Bilancio e Giorgio Sorial, questo scandalo del lobbismo e abbiamo ottenuto grazie a Di Maio, l'ufficio di Presidenza, il registro per sapere esattamente chi entra alla Camera, per far sì che nessuno come primo aggregante entri al Senato senza che nessuno se ne accorga, questo è grazie alla Commissione Bilancio e a persone come il Vice Presidente Giorgio Sorial. Grazie a tutti.